Guardate chi ho trovato qua fra questa tantissima gente del Malligans, Silvì Lubamba, tra l'altro è bellissima stasera, proprio bellissima, ciao. Grazie, faccio di tutto per fare la mia porca figura e comunque un saluto a tutti i telespettatori di InTV. InTV perché è la TV per quelli che sono in. In, vabbè, o per chi crede di essere in, insomma, o per chi lo è, o per chi, dipende dai punti di vista. Tu sei in, Silvì? Io sono in per la mia famiglia e per i miei amici più stretti e anche per qualche fan, perché no? Comunque... Non possiamo perdere la fase al modesto, sono in anche per molti telespettatori. Guarda, per me sei in, perché veramente, lo dico un'altra volta, l'avevo già vista in giro, Silvì, stasera è particolarmente bella. E niente, stasera al Malligans, avete una grande serata, grandi personaggi, ci dovevi essere anche tu. Sì, diciamo che comunque io sono qua per il compleanno di Alessandro Fossi, perché al di là delle serate del gettone di presenza ci lega anche un'amicizia di vecchia data. Diciamo che comunque io lo conoscevo prima ancora che diventasse un personaggio, per così dire, noto. Facciamo un saluto ai telespettatori di InTV, che stasera si sentiranno in, perché ci vedranno noi. Va bene, un bacio, un abbraccio e auguro un'estate strepitosa, un 2008 fantastico a tutti i telespettatori di InTV da Silvì Lubamba.